L'Italia è un paese per viaggiatori, il più sognato al mondo. Oggi la sfida è passare dal sogno alle azioni concrete, costruendo tutti insieme il piano strategico per il turismo. Iscriviti anche tu sulla piattaforma pst.beniculturali.it e lancia la tua idea progettuale. È facile, puoi accedere anche usando i tuoi profili social. E non dimenticare che puoi contribuire anche votando le idee degli altri. Cosa aspetti allora? Condividi subito la tua idea. Grazie per la visione!